Rocchetta per te e rocchetta per me. Ma tu, Zia Laura, perché bevi sempre rocchetta? Perché la mia acqua è di bellezza. Così mi depuro dalle scorie cattive e sono pulita dentro e bella fuori. Io da grande voglio diventare bella come te. Ma tu sei già bellissima. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Zia Laura, plin plin! Effetto rocchetta. La vita di Corinne. Non dura quattro giorni. Chi non tè se governa, so gentil compagnon. Oh 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 E Porta San Benedetto la prima che visitiamo in questo nostro viaggio di Aspettando i Giochi alla ricerca dell'oggi dei giochi delle porte, per poi parlare ovviamente dei giochi di ieri. Siamo nella nuova sede di Porta San Benedetto, per i gualdesi zona palazzetto dello sport, nuova perché qui si sono trasferiti nemmeno da tantissimo, nuova la sede, nuovo il priore, nuovo tutto, magari porta bene pure per il palio, staremo a vedere. Nicola Bossi, una nuova sede, perché una nuova sede e che cosa ha significato, cosa significa per voi? Per noi è l'inizio di un nuovo progetto che ha preso il via il 3 gennaio scorso quando il comitato di Porta, con oltre 107 persone, ha deciso di votare la mia figura come priore. Io ho accettato a condizione però che davamo una scossa, una scossa importante, quindi voleva dire non solo una sede che qui ovviamente chi mi ha preceduto aveva in certo modo già fermato. Noi l'abbiamo allestita per fare in modo che ci fosse un grande archivio per quanto riguarda sia i documenti, ma soprattutto tutto quello riguarda i vestiti, i cappelli, perché è un patrimonio della Porta che vogliamo sfruttare in questi anni sia per affittarlo e sia per poter utilizzare anche in un eventuale museo di Porta che è il nostro grande obiettivo. Ecco, museo di Porta, ti fermo, perché in realtà voi già qualcosa fate in questo 2014 in tema di museo, in particolare nella zona del centro storico state proprio allestendo per il giorno dei giochi cosa? Sì, noi abbiamo avuto la fortuna di prendere il negozio Ex Cose Belle di De Carmeno che è su quattro piani. Il primo piano è dedicato a tutti i nostri gadget e in più ci sarà anche un amico come Filippo Rondelli che stamperà delle foto in tempo reale per i portaioli. Al secondo piano stiamo definendo, ma è fatta, c'è la mostra dell'amico Vincenzo Martini che è uno dei maggiori pittori italiani ed è umbro. Al terzo diamo il primo embrione di museo, seppur itinerante, e ci saranno oltre 100 foto storiche e soprattutto vestiti e cappelli particolari. Non vi aspettate una cosa mostruosa, ma è l'inizio per dare un segnale perché bisogna far capire che le porte sono tradizione, cultura e soprattutto cultura. A volte ci si dimentica questi aspetti. Ecco, eppure per una porta questi progetti sicuramente nobili hanno un costo, no? Perché insomma una nuova sede, allestirla, un museo seppur in fieri, tutto da costruire, sono degli sforzi anche economici, no? Per un'associazione che di fatto vive di puro volontariato e dell'introito per lo più dei tre giorni di festa. Non dimentichiamo l'onere anche, seppur l'onore di averlo, delle stalle. Come fa una porta ad andare avanti in questi tempi dove tutti parlano di crisi? È un problema anche per le porte? Ma il problema delle porte è più che altro un problema dell'ente perché vengono meno gli sponsor, vengono meno tante realtà di contributi. Le porte, è ora che si comincia anche a capire una cosa molto chiara, che le porte sono un'associazione e che i bilanci vanno chiusi a zero. È inutile avere 15-20 mila euro in banca, chissà per quale prospettiva. In questo momento difficile bisogna tenere i prezzi bassi come noi abbiamo fatto per quanto riguarda la taverna, per i menu. Noi quest'anno abbiamo introdotto anche un settore diverso che è quello dei panini, sono panini particolari ma con 5 euro uno mangia un panino, una birra e questo comporta che più gente può venire in taverna e si gode la taverna perché la vera casa dei giochi è la taverna. Poi per il resto bisogna anche capire se ha un senso così profondo quello di investire così tanto, a volte anche esageratamente, nei cortei storici. È importante la ricerca storica ma tutto quello che è a volte esagerazione forse non ce lo possiamo più permettere oggi dati i tempi che ci sono e anche per rispetto dei tanti portaioli e noi ne abbiamo tanti che oggi non lavorano. Quindi noi andiamo avanti con il contributo delle taverne, con la nostra cucina e durante l'anno facciamo una cosa molto semplice. Abbiamo deciso quest'anno durante le nostre merende, i nostri appuntamenti a casa San Benedetto, l'ex stalla, di non far pagare. È una scelta che ovviamente comporta meno introiti, però aspettiamo tempi migliori per tutti ed è un modo per dire grazie ai portaioli che nonostante questa situazione brutta ancora lavorano con noi, come vedi, si danno da fare, ci credono e penso che Porta San Benedetto serve soprattutto anche per non pensare a volte alle brutte situazioni della situazione, della crisi che vive Guadalto. Ovviamente al priore chiederemo magari in un'altra intervista più vicino ai giochi, che aspettative ha per i giochi. Le domando, che aspettative ha per il corteo? Il corteo quest'anno è una grande scommessa, però di una cosa sono certo. Abbiamo fatto un grande studio, abbiamo fatto, hanno fatto, io non ho fatto nulla, un grande studio di ricerca storica per inquadrare il periodo e soprattutto quest'anno io ho chiesto e loro ci sono riusciti a dare risalto alle nostre tradizioni di Guadalto. Il Medioevo non era uguale dappertutto, non possiamo essere paragonati a quello che era Firenze, che era una capitale di quel mondo. Noi avevamo un Medioevo diverso, più povero, ma certamente avevamo grandi, grandi eventi di vita sociale e una realtà economica che era importante, anche perché non ci dimentichiamo che Guadalto era passato da una delle vie di comunicazione principali del Medioevo. Ecco, non troverete personaggi storici che non sono gualdesi. E in questa rinnovata sede di San Benedetto incontriamo il responsabile proprio del gruppo corteo, Francesco Nardi, un corteo quest'anno che scava nella storia di Guadalto, nella storia della festa di Guadalto. Qual è il vostro tema? Siamo andati alla ricerca delle origini della festa e con la ricerca appunto storica abbiamo rivisitato il corteo partendo dalle fiere cittadine che dal Medioevo erano in vigore in tutta Europa, in Italia e anche a Guadalto fiere cittadine che nella nostra città cadevano in concomitanza di due appuntamenti maggio e settembre e all'interno delle quali si svolgeva il pallium che era proprio una gara di combattimento sia a cavallo che a corpo libero che faceva divertire anche gli abitanti della città. Che cosa vedremo quindi in questo corteo? Cosa ricorderete voi nel corteo di questo pallium e della fiera legata alla festa del patrono? Vedremo praticamente la rivisitazione di una compravendita che interessava tutto il tessuto cittadino dall'esposizione del bestiame con i mercanti che arrivavano in città non solo di Guadalto perché interessava tutto il territorio umbro Guadalto era un po' il crocevia da questo punto di vista dei commerci anche del bestiame tant'è che il palio e la fiera cittadina cadeva sia a maggio che a settembre in concomitanza con l'inizio e la fine dell'anno agricolo quindi vedremo sia chi porta all'incanto le bestie i mercanti che vendono i compratori e vedremo degli spettacoli che interessavano proprio la festa il palio era proprio quindi avremo degli spettacoli con ballesteri e scoppetteri avremo giocolieri avremo insomma uno spettacolo uno spettacolo che interessa tutto il tessuto cittadino e siamo entrati nella sartoria di porta San Benedetto Silvia vestiamo una dama nuovi costumi immaginiamo per questo corteo innanzitutto buonasera benvenuti nella nostra nuova sede nuova casa diciamo e sì stiamo provando un nuovo abito di quest'anno ci sono state molte novità quest'anno tra il cambiamento veramente di sede di destinazione e anche il corteo molto nuovo quindi vuol dire che vedremo molti costumi nuovi per esempio quanti riusciamo a spanne a dare un numero? beh non so però credo che in lavorazione ci siano circa 50 vestiti nuovi sicuramente il che significa avere qui da quanto tempo quanta gente che lavora? a parte che siamo stati occupatissimi per il palio di primavera perché anche lì c'è stato un rinnovamento dal palio di primavera in poi più o meno tutte le sere siamo stati qui a lavorare per la porta e per i giochi quante persone girano qui in sartoria e di là nella zona dei carri? beh 30-40 persone forse anche di più perché sul gruppo sfilata siamo 56 iscritti quindi a turno ci sono venuti tutti quindi sì grande lavoro grande lavoro di squadra questo aspettando i giochi è un po' particolare quest'anno perché prova a raccontare i giochi di ieri come erano una volta negli anni 80-70 come sono oggi tu che sei insomma una veterana malgrado l'età di questa porta come è cambiato il lavoro in meglio, in peggio, più pesante qual è la differenza? forse più stressante però dà più soddisfazioni cioè all'inizio comunque sia era una scuola è stata quindi è come da da una prima elementare arrivare a un liceo e quindi è cresciuto il lavoro è cresciuto l'interesse sono cresciuti gli studi è tutto più particolare meglio prima, meglio ora? diverso, diverso cioè è belle entrambe le cose perché comunque sia all'inizio la scoperta e adesso c'è la voglia di fare sempre meglio la voglia più gente coinvolta i bambini che lavorano è tutto un clima diverso se siamo al liceo ci sarà un'università e allora per l'università quale sarebbe il sogno di Porta San Benedetto e in particolare del gruppo corteo del gruppo che si occupa dei carri? ma credo che il sogno sia di far crescere la festa indipendentemente dalla porta perché comunque il lavoro non si fa per se stessi non si fa soltanto per la Porta San Benedetto ma per Gualdo e per la manifestazione probabilmente il sogno è questo sì che la manifestazione diventi veramente grande seconda tappa a Porta San Facondino la sede ormai divenuta assolutamente storica in Viale Don Bosco dove il corteo è in pieno come dire in piena realizzazione una porta che insomma il premio corteo lo vince praticamente quasi tutti gli anni e che quest'anno auspica di vincerlo ancora Daniele Gelsi qual è il tema che proponete quest'anno? allora il tema è questa eterna partita questa lotta questa sfida tra la vita e la morte praticamente eterna quindi dai tempi antichi fino ad oggi insomma un tema impegnativo perché questo tema insomma immaginiamo anche estremamente allegorico guarda impegnativo sicuramente infatti abbiamo tardato diversi anni prima di realizzarlo diciamo che un po' questa è nelle mie corde ho sempre tentato di farlo ma ascoltavo anche il consiglio degli altri per cui abbiamo un po' tralasciato gli altri anni però secondo me è raggiunto il momento visto che abbiamo fatto quasi tutto questo restava per cui la scelta è caduta su questo tema secondo me molto importante interessante per cui è un tema impegnativo non pretendiamo di svelare tutti i particolari ma insomma il pubblico che cosa vedrà come interpretate questo argomento? ma guarda in grandi linee il concetto è questo nel senso che comunque la morte e la vita sono due vincitrici la morte è certo che vince ma da morte poi comunque per ovvi motivi c'è una sorta di rinascita la stessa pianta che viene tagliata o il grano butta il seme per poi rinascere il concetto è questo insomma è vero che la morte è vincitrice ma non è una vincitrice eterna ci avete abituato ad immagini scenografiche di forte impatto ne troveremo? assolutamente sì è un po' il nostro stile ci diverte farlo a volte abbiamo anche rischiato però secondo me questa è la nostra linea il nostro stile le nostre corde ci sentiamo bene quando realizziamo questo tipo di corteo in altri ci troviamo un po' di meno per cui questo ci piace ci diverte molto non sarà ovviamente allegrissimo ma non è detto che in quanto festa bisogna sempre ridere ballare e scherzare la difficoltà principale che avete incontrato nella realizzazione di questo tema? beh guarda già dal concetto stesso c'è una grande ricerca in merito una grande documentazione nelle strutture come realizzarla perché è rappresentata in mille modi le allegorie dai trionfi della morte appunto fino in avanti ci sono mille modi in cui è stata realizzata per cui c'è stata anche una scelta su come farla come non farla parlo della morte ma anche sulla vita la vita può essere rappresentata in mille modi per cui prima di decidere su come farla ci abbiamo pensato molto quest'anno aspettando i giochi farà vedere anche dei cortei passati degli anni 70 degli anni 80 insomma anche noi ci divertiamo un po' a giocare sul filo del passato e del presente San Facondino com'è cambiato da allora adesso? guarda ovviamente come tutto è cambiato tanto però la cura l'abbiamo sempre messa tutti credo tutte e quattro le porto ognuno a modo nostro io mi ricordo tutto ormai da bambino dai primi anni quando con mia madre andavamo a casa lì de Silva vorrei infatti ricordare la nostra storica priora e da lì non che non ci fosse documentazione ma i mezzi le capacità erano altre e poi chiaramente siamo andati avanti ormai il livello si è alzato io facendo e tu lo sai questo lavoro ti dico che questo livello in Italia secondo me c'è da poche manifestazioni per cui ti dico che la cosa è cambiata molto andando sempre migliorando c'è un po' di rimpianto almeno per te per quella spensieratezza che forse si aveva quando era ragazzi ci si metteva la camicia si scendeva in corteo e come veniva veniva e ora invece la responsabilità di portare in piazza qualcosa di importante certo guarda credo che per tutti sia così per me no no perché io ho sempre tenuto tanto ho sempre voluto fare anzi ti dirò che paradossalmente facevo di più prima quando ero ragazzino perché ero proprio pieno di entusiasmo di giovinezza e tutto per carità e quindi andavo avanti proprio senza senza mezzi termini adesso c'è il lavoro impegnativo c'è lo stress la fatica e tutto il resto però no non lo rimpiango perché comunque ho sempre tenuto a fare belle cose poi sono il primo in quanto ci godiamo la nostra festa a divertirmi però lo faccio nel momento e nei luoghi dovuti qui dicono silenzio no in realtà insomma è un posto in cui il vociare è giusto tante persone vediamo volti che abbiamo visto anno scorso ma anche volti nuovi allora come si fa ad attirarli dentro qual è il vostro segreto? guarda la regola secondo me è stare bene insieme noi abbiamo un gruppo consolidato potete parlare insomma siamo noi gli ospiti quindi no ma litigare magari no no perché in effetti insomma non di queste litiche spesso ma succede anche quello oltre a ridere a scherzare però come ti dicevo il segreto è lo stare bene insieme è un gruppo ormai consolidato da anni ci conosciamo ci conosciamo tutti mi conoscono anche a me insomma davanti ero veramente bambino per cui sono cresciuto un po' con loro mi capiscono subito lavoriamo bene insieme quindi ormai conosciamo le linee gli stili andiamo alla grande allora noi andiamo a scoprire qualcuno di questi lavoratori infaticabile di indefessi qua qua che già sfuggono già se ne vanno fuggono via e allora noi li prendiamo al volo ma è davvero terribile Daniele qualcuno dice insomma che è un coordinatore con il polso e insomma abbastanza esigente esigente ed è giusto così è amante della perfezione e quindi per una buona riuscita bisogna sopportarlo insomma ci può stare qualche volta anche di mandarla a quel paese tanto rispetto tanto rispetto allora qua giù giovani giovani passo davanti giovani leve giovani leve davvero insopportabile o bravissimo insomma Daniele che tipo di riferimento è per voi diciamo bravissimo assolutamente perché poi sennò vi picchia altrimenti è per noi no no assolutamente è una grande è una grande ispirazione per noi giovani perché comunque sia riesce a trasmerterti la passione in quello che facciamo anche se magari a volte sbagliamo però lui pretende il meglio e noi cercheremo di di farlo come lui di fare ti possiamo chiedere gli anni? 24 giovani da quanto dentro San Facondino? da una vita ho iniziato da quando ero piccola e spero di continuare così che cosa facciamo qui? allora stiamo facendo dei torcioni li stiamo rivestendo per poi metterci la stoffa e andranno poi sulle teste sul palo quindi insomma facciamo tutto qui dentro dalla testa fino ai piedi nel vero senso nel vero senso della parola quanti ne facciamo? proviamo a dare anche dei numeri per far capire la mole di lavoro diciamo che sono veramente tanti abbiamo diversi colori diversi modelli sono veramente tanti insomma lavoro faticoso poi alla fine c'è la soddisfazione magari voi vincete sempre il premio quindi o quasi sempre insomma molto spesso diciamo sono rare le volte che non lo vincete vai diciamola così insomma lì la soddisfazione c'è è ovvio ovviamente quella mattina c'è la rivincita di tutto il lavoro fatto qua la sera tutte le sere quest'anno vinciamo o meglio vincete noi puntiamo a vincere dopo si vedrà quel giorno alle stamegne donne alle buone stamegne e chi vuole stamegnare io sono stamegnatore e sono buona farina e stamegnano tutte le ore ma tu come ti chiami ricordamelo Rosalinda ma tu chi sei cioè chi è babbo tuo babbo Roberto e nei giochi delle porte che cos'è San Donato il priore il priore e allora tu che ci fai a San Facondino perché io sono di San Facondino e quindi ti vesti per San Facondino allora dimmi forza San Facondino forza San Facondino più forte che io non ho sentito forza San Facondino Rocchetta per te e Rocchetta per me ma tu zia Laura perché bevi sempre Rocchetta? perché la mia acqua è di bellezza così mi depuro dalle scorie cattive e sono pulita dentro e bella fuori io da grande voglio diventare bella come te ma tu sei già bellissima Rocchetta acqua della salute puliti dentro e belli fuori c'è Laura plin plin effetto Rocchetta e in questa edizione di Aspettando i giochi delle porte abbiamo voluto anche rivedere che cos'erano i giochi di ieri quelli che sono nati negli anni settanta e attraverso gli anni ottanta, novanta gli anni duemila sono arrivati sino a noi in questa puntata guarderemo ai cortei storici come erano e come sono diventati abbiamo girato stiamo girando le sartorie per vedere che cosa si realizza per questo 2014 ma con il collega Salvatore Zenobi che gentilmente ci ha messo a disposizione tanto materiale video in suo possesso proviamo a capire che cosa erano cosa sono stati i cortei storici come sono nati e come sono evoluti in particolare come nacque Ero Salvatore negli anni settanta che cos'era il corteo storico e soprattutto come si attrezzarono le porte all'epoca per scendere in piazza La nascita del corteo storico per i giochi delle porte è quel momento che racchiude qualcosa tra la storia e la leggenda diciamo che le prime edizioni nacquero con il contributo di festa a noi vicino quindi i costumi furono furono noleggiati quasi a chiudere un cerchio oggi i giochi delle porte noleggiano i propri costumi a manifestazioni che sono ai primi passi quindi diciamo che come i giochi delle porte sono stati aiutati all'inizio oggi aiutano altre manifestazioni che poi è anche l'indice della crescita del corteo storico dei giochi quindi da aver appreso da altri essere diventato punto di riferimento quindi in questo c'è racchiusa un po' tutta la genesi del corteo storico gualdese le leggende narrono appunto dell'arrivo di questi costumi a Gualdo Tadino e in che anni siamo siamo nel allora la prima edizione del 1970 che poi non aveva seguito avvenne la stessa cosa però diciamo che datiamo al 1978 quindi alla ripresa dei giochi delle porte arrivarono questi questi costumi diciamo dalla vicina a Sisi e iniziò la scelta dei nobili dei costumi e la leggenda che trovo poco conferme però mi piace raccontarla proprio come come aneddoto vuole che San Benedetto si attardò nella scelta dei costumi e quindi ebbe i cortei storici migliori però nel frattempo le altre porte erano andate a scegliere i somari e quindi San Facondino arrivò prima alla scelta del somaro e da lì iniziarono le prime vittorie consecutive del rione giallo verde e la contrapposizione si diceva i signori di San Benedetto quindi il corteo storico più bello e i somarai della capezza che avevano scelto il somare e quindi vincevano con mandolino tutti i pali poi questa cosa però è stata ribaltata sì diciamo che quando tu mi hai chiesto insomma di raccontare un pochettino questa storia mi è venuto proprio in mente questo che per un certo periodo poi San Facondino era sicuramente un punto di riferimento per la sfidata però per nove anni non vinse il palio quindi diciamo che si era un po' contrapposto e San Benedetto iniziò a vincere il palio in questi ultimi anni abbiamo avuto la conferma basta pensare allo scorso anno in cui San Facondino ha fatto la doppietta che poi non c'è sicuramente nessun tipo di riferimento fra le due cose quindi i giochi viaggiano su un binario con i loro responsabili la loro preparazione i cortei storici viaggiano su altri binari in questo senso la stavista che ho scontato e sperata non s'accostare a me sia male ed è stata chi fa maritata qua un uomo fa maritata e Dio che con potenzia dirvi sì a quelle vecchie ladre lo dico per mia madre lo dico per mio padre che è scontato ma parte d'arriera non c'è costarità parte della Milano del senso e della mano alla vita lontan lontano va a me gioia mia bella me non ti cruciar io non mi tracosterò non mi vorresti tanto comandare quando io ti ubbidirò e se ho tornato per essere serva a tia non mi dirmi la mia cosa di non mi rica fa questa cortesia fammela far parte d'arriera non c'è costarità parte della Milano del senso e della mano alla metà lontan lontano va a me ecco questa è la nascita del corteo storico poi negli anni 80 che cosa è cambiato? è cambiato che praticamente siamo passati dal noleggiare i costumi alla realizzazione del luogo è chiaro che avere tra le mani i costumi di altre feste per le abili sarti e i gualdesi di tutti e quattro rioni è significato anche andare a vedere dentro come erano fatti capirne un pochettino i segreti e quindi ritrovarsi con la capacità poi di realizzarsi di realizzare i cortei storici da soli insomma quindi diciamo che è il primo step quindi dal noleggio dei costumi alla realizzazione dei costumi improprio è cambiato anche qualcosa sui temi no? sì diciamo che i primi anni 80 quindi facciamo 78-79 i primi anni 80 nascono intorno alle corporazioni quindi diciamo i cortesi sviluppavano sulle corporazioni che erano proprie assegnate alle varie porte quindi si ritrovava puntualmente il ceramista il torniente dentro San Martino che era atteso a lungo come passaggio per dire gli albergatori quindi i macellai per quanto riguardava San Benedetto pensa al Fabro il Ciabattino al Bastaio per San Facondino abbiamo avuto difficoltà entrambi ma mi sembra che anche erano i lanai per quanto riguardava San Donato e altre corporazioni però diciamo che la sfilata di San Donato era attesa per un personaggio mitico del mondo dei giochi delle porte ma della storia della città che era la Bastola quindi ogni anno secondo me c'era attesa per vedere come veniva interpretata sia da Maria Teresa Renzini che era proprio l'incarnazione in quel momento della strega nemica di Gualdo sia proprio anche come veniva concepito tutto quello che era il quadro intorno alla cattura oppure piuttosto carrogo della Bastola che in quegli anni veniva appunto raffigurata come la strega malefica quindi questi sono i primi cortei storici con la particolarità che venivano riproposti per tre anni quindi un tema si svolgeva su tre anni e non sempre si cambiava in maniera sincrona quindi aveva una porta che portava la sfidata nuova e altri che magari continuavano nella piccola evoluzione dei temi presentati precedentemente e questo è stato il periodo che è stato caratterizzato all'inizio degli anni Ottanta nella prima metà e oltre degli anni Ottanta che Musica Dalle varie corporazioni che erano toccate in sorte all'inizio del mondo dei giochi alle varie porte alcune hanno scelto di evolvere il proprio discorso è un po' antipatico che essendo io di San Facondino ripeta che è stata la porta giallo-verde però in questa veste giornalistica sei assolutamente super parte diciamo che l'introduzione di San Facondino dei temi Forse qui va anche ricordata una persona tra l'altro scomparsa di recente che è stata importante in tal senso Ci arrivavo insomma nel senso che erano i cortei che avevano visto in Maria Fioriti appunto una delle protagoniste ma un po' tutto lo staff da allora di San Facondino diciamo che la regia era un po' la sua attraverso anche contatti che ritornano con manifestazioni fuori dal mondo dei giochi vengono introdotti i temi, mi piace ricordare fu presentato per esempio tutto il modo della lavorazione della carta legata comunque anche alla storia della città perché noi abbiamo un quartiere si chiama Cartiere non a caso insomma ecco perché proprio è storicamente provato che c'era una produzione di carta in quella zona quindi è stato presentato quel tema, poi le quattro stagioni, la caccia, altri temi così che hanno spostato pur rimanendo questa periodicità di tre anni hanno spostato appunto l'attenzione su dei temi che venivano sviluppati da questo corteo storico e la sensazione che al pubblico questa cosa piaceva insomma ha portato a sì che un po' tutte e anche le altre porte sono venute dietro a questo discorso rimanendo dei punti fermi di quelli che parlavamo prima cioè la bastola comunque è portata da San Donato oppure la ceramica che è auspicabile che torni come momento magari anche al di fuori di quello che oggi è il premio della giuria come un momento qualificante proprio per l'attività principale che era della città quindi diciamo che c'è questo passaggio al tema della sfilata e secondo me è un primo step Hai citato il premio corteo, siamo arrivati all'ultimo step di questo nostro percorso iniziato alla fine degli anni 70 quando è arrivato e insomma abbiamo già intuito perché da quello che ci hai detto che cosa ha portato però tra le coscienze dei portaioli che cosa ha portato a Gualdo? Il premio arriva nei primi anni del 2000, 2001 credo grazie anche alla collaborazione con il notario Antonio Fabi che l'ha sempre sostenuto e sponsorizzato come premio importante per il mondo dei giochi diciamo che quello che ha portato è venuto fuori un pochettino nei discorsi non che prima non c'era una rivalità tra chi si impegnava nel corteo storico però il desiderio di vincere, il desiderio di sottoporre alla giuria un qualcosa di veramente fantastico come sono un po' i cortei delle quattro porte ha messo in moto un meccanismo virtuoso il meccanismo virtuoso non me ne vogliono i tesorieri delle porte che ha portato anche a un grande cambiamento se prima i temi venivano sviluppati in tre anni oggi il tema dura un anno Mi costa di più fare il corteo? Su questo si potrebbero aprire delle discussioni però sicuramente è un investimento che è ripagato perché quello che dicevo io prima se il sabato sera ci sono tutte quelle persone che vengono a Gualdo e quindi vengono a mangiare in tavenda e riversano in quella maniera soldi nelle casse delle porte è perché c'è un corteo che vale la pena di vedere se il corteo non era all'altezza della manifestazione avremmo incassato meno quindi c'è stata una parte anche nel corso degli anni un aumento delle presenze quindi tra virgolette un ritorno rispetto agli investimenti che le porte fanno sui costumi è credo anche un tema un po' sottovalutato credo che nelle sartorie delle porte ormai ci siano valori per anche qualche centinaia di migliaia di euro non voglio dire cifre sproporzionate ma tra carri e tra costumi secondo me se conservate in una certa maniera penso ai costumi dei nobili, ai costumi dei priori che oggi sono talmente tanto ricercati che non sfigurerebbero come diciamo prima in altre manifestazioni che hanno una tradizione più lunga della nostra io ho visto recentemente delle foto pubblicate su Facebook con scritte sotto no ma dice ma che è un costume di Siena era invece di un priore di Guadalino quindi tanto per dare il segnale di quale può essere stata la crescita delle manifestazioni ecco però ora che si è cresciuto così tanto ora che le porte hanno tutto questo patrimonio proviamo a chiudere così qual è il futuro? cioè sono tempi maturi per avere per esempio un museo dei giochi delle porte un luogo dove possano essere esposte le cose più belle che questi portaioli hanno creato? i tempi sono maturi occorrono spazi e occorrono volontà e soprattutto quel museo che secondo me chiuderebbe per tre giorni perché io parlo specialmente di quello che conosco ma penso che avvenga alla stessa maniera costumi belli che rimangono in sede nel discorso della sfilata ce ne sono pochi anzi attraverso anche il rinnovamento dei priori potrebbe essere uno sforzo no beh è una battuta nel senso che vedi i costumi dei priori magari degli anni precedenti che vengono indossati nella parte nobiliare del corteo storico quindi magari in quei tre giorni vengono smontati dal museo e il visitatore invece trovato nel museo lo trova vivo aiuterebbe la memoria questo museo? sì aiuterebbe la memoria e io lo arricchirei anche dei pali perché veniamo dalla presentazione dell'ultimo palio di Cosimo Epicoco il patrimonio anche a livello di pali è veramente grande perché sono opere d'arte sono opere d'arte a tutti gli effetti che vale la pena che vengano anche quelle vissute quindi vengano ammirate bene questa era la prima puntata di questi giochi di ieri non so se hai qualche pillola da consegnarci in attesa della prossima puntata volevo chiudere con un avvertimento per chi vede le immagini proprio preparandoli dice ma c'era tanta più gente dobbiamo anche ricordare che specialmente negli anni 80 la copertura da parte delle due emittenti locali del percorso non era totale quindi magari uno non riusciva a vedere tutti i giochi e li viveva in piazza oggi siamo arrivati al punto che partiamo dalla telecamera che sta nei box dei sommari cioè uno dei punti più segreti e copre l'intero percorso sia per quanto riguarda il corteo storico sia per quanto riguarda i giochi quindi diciamo che fortunatamente c'è questo perché altrimenti in alcuni momenti ci sarebbe proprio anche una difficoltà di gestione della piazza quindi è un'avvertenza per chi si mette a vedere le immagini e ricordare questo poi l'altra cosa che volevo sottolineare è che vedendo le immagini persone che attraversano i cortei situazioni che quindi anche quella è una crescita anche dell'organizzazione dell'ente giochi del report oggi il percorso è tutto transennato difficilmente vedi le persone che interrompono un corteo attraversando da una parte all'altra quello poi lo vedremo quando guarderemo i giochi di una volta quelli che correvano dietro addirittura quello addirittura quello che correvano dietro ma io proprio parlo a livello di corteo storico poi vi ho consegnato delle immagini amatoriali del 79 e dell'80 che credo sia la prima volta che vadano in onda su delle televisioni sono delle riprese amatoriali realizzate da Massimo Viventi che ringrazio per avercele messe comunque a disposizione io ne avevo tratto per alcuni filmati nostri proprio come porta degli spezzoni e forse sono anche qui vale la pena ricordarli i primi giochi non erano coperti da televisione perché non esisteva l'emittenza locale quindi diciamo che le prime telecamere che facevano la diretta erano in 83-84 erano una telecamera posta sulla sola piazza quindi avere queste immagini ci aiutano a dare un senso a quello che abbiamo detto noi proprio a far vedere la grande differenza che c'era fra quel corteo storico 79-80 e i cortei storici di oggi lo ringraziamo anche noi ovviamente per averci messo a disposizione per definire il corteo storico volevo prendere una frase che è di Gianni Poletti sul libro che avevamo scritto sui giochi delle porte perché forse la rende a chiusura un po' quello che abbiamo detto un calendroscopio di immagini, di simboli, di allegrie mostrano nel corteo storico dei giochi l'estrema complessità di un sistema di vita e di pensiero distante i 600 anni dalla contemporaneità che gli si vuolge, che gli vuolge uno sguardo incuriosito e a volte meravigliato credo che ha descritto in quattro righe quello che è il corteo storico di Guardadino un bel matin d'amore, l'amore che me levava ed un bel matin d'amore, l'amore che me levava metti la sella al vostro volontin e doi sul lagra voglia, voglia, traditora metti la sella al vostro volontin Tappa terza Tappa a Porta Sandonato dove ci siamo anche accomodati perché la serata comincia ad essere faticosa Porta Sandonato che quest'anno ha un tema legato alla terra all'agricoltura alla tradizione cosa presentiamo Teresa? Allora, il titolo della nostra sfilata è L'arte del vino in poche parole settembre è tempo di vendemmia e quindi è tempo di bere nel nostro corteo sarà rappresentata la fase dalla raccolta al vino prodotto e quindi al vino usato nella taverna o meglio all'euforia e all'ebbrezza del vino è un tema la cui scelta è stata dettata da diverse condizioni prima di tutto diciamo l'impegno economico perché ogni anno abbiamo un impegno che determina un pochino le scelte anche del tema del corteo storico e secondo motivo il parterre dei costumi perché evidentemente un parterre di costumi basato su abbigliamento diciamo allegorico abbigliamento che comunque è su quella che è la concretezza impegna un certo tipo di tema il nostro è un tema molto realistico quest'anno anche per rispondere un po' all'esigenza che era venuta fuori nel nostro rione che faticava un po' soprattutto la gente di una certa età a comprendere temi abbastanza sofisticati tra virgolette e quindi abbiamo fatto una scelta di questo tipo proprio un tema molto concreto rappresenteremo tutte le varie fasi dalla raccolta alla produzione e anche diciamo all'immagine di un vino che è diverso da quello che siamo abituati a bere nel nostro territorio il famoso acetello un vino anche che già nel 1400 ma direi anche molto prima veniva trattato veniva elaborato per produrre sofisticazioni alimentari chiamiamoli così ecco tu hai fatto riferimento proprio a un ritorno come vogliamo alla tradizione un attaccamento anche a quella che è la cultura di questa terra noi facciamo rivedere nel nostro Aspettando i giochi i vecchi cortei degli anni 70-80 insomma profondamente diversi da quello di adesso tu sei stata anche una protagonista forte di quei cortei in qualche modo guardandoli c'è nostalgia o comunque sia è inevitabile che un corteo evolva con gli anni allora diciamo che tutti i cortei delle porte delle quattro porte sono cresciuti in maniera esponenziale e quindi anche il nostro corteo cerca di incanalarsi su questa strada è ovvio la nostalgia una certa nostalgia c'è la nostalgia dell'immediatezza della poca programmazione perché evidentemente oggi per una serie di cose siamo portati a queste la competizione stessa lo esige però quello spirito proprio di porta di libertà un pochino si è perso perché comunque una giuria che ti giudica quindi certi comportamenti che vanno repressi è ovvio che è un po' quella parte primordiale che va contrastata che va controllata e che però in queste occasioni ogni tanto tenta di venire fuori quindi e questo determina la nostalgia raccontaci un po' come nascevano i cortei quando tu facevi la bastola e magari nascevano in poco tempo ecco diciamo che adesso il lavoro è il lavoro di un anno perché appena terminati i giochi a ottobre i primi di ottobre si ricomincia già a pensare e a diciamo mettere in campo idee per l'anno poi che verrà io ricordo esperienze di quando mi vestivo che diciamo l'ultima settimana il lunedì mi dicevano adesso che pensiamo e quindi magari dentro casa studiavo la notte abbigliamenti studiavo strutture anche molto semplici e che poi ecco nell'arco di quattro giorni concretizzavamo con vestiti che venivano tagliati all'ultima ora un anno a volte nemmeno cuciti proprio legati assolutamente no legati mi ricordo un anno tra l'altro un personaggio che conosci benissimo Mario Barberini e Pascucci il maestro Pascucci che vennero a casa mia disperati perché questo quadro non era stato assolutamente diciamo elaborato strutturato ed io dissi non vi preoccupate che cosa abbiamo dice niente nessuna struttura dico bene abbiamo qualche coperta militare dice assolutamente sì possiamo trovarla dico bene salitemici sopra e sventolatemi in aria e fu quell'anno che poi la coperta cedette ed io finì chiaramente per terra questo era lo spirito dell'improvvisazione ma anche lo spirito della creatività però rompente diciamo no perché non sapevi mai che cosa veniva fuori e venivano fuori cose inimitabili a mio avviso ora è impossibile ritornare indietro si va sempre avanti allora abbiamo affrontato anche con altri questo discorso dove devono andare questi cortei verso cosa dobbiamo guardare io penso che per la gente chiaramente la nostra festa oramai ha un'immagine anche a livello nazionale diciamo così abbastanza forte e quindi su questa strada bisogna continuare una strada fondata sullo studio chiaramente sulla ricerca storica una strada fondata sulla programmazione perché oramai parliamo di cortei che costano che hanno un costo molto elevato insomma io non vorrei dire una stupidaggine ma un corteo decente non riesce a metterlo in campo con meno di 10 15 mila euro che comincia ad essere un impegno economico forte e quindi è giusto che il turista che viene da fuori da fuori possa godere di un corteo diciamo veramente di qualità ecco però è anche giusto che comunque questa festa rimanga radicata nel nostro territorio e sia una festa vissuta dai gualdesi e quindi come tale possano i gualdesi ritrovare nel corteo lo spirito che comunque è dentro di loro e ricercano che porta è San Donato secondo voi com'è San Donato non lo so è una porta forte oppure una schiappa forte è una porta forte o siamo delle schiappe a San Donato diciamo metà oh diciamo metà allora vediamo un po' e come mai perché c'è c'è un sommario che si chiama San Facondino che è il primo quindi però magari quest'anno potremmo essere potrebbe essere primo San Donato facciamo sì facciamo sì e i nostri giocoglieri come sono? bravi allora possono vincere molti sì allora insomma chi lo vince questo palio? San Donato ah San Donato voglio un bel forza San Donato San Donato San Donato e come di consueto visitiamo anche un po' la Sartoria di San Donato per questo tema quali sono state le novità almeno da un punto di vista sartoriale che avete affrontato e che ci proporrete ma novità alcune diciamo abbiamo un pochino ingrandito la corte alcuni costumi nuovi in sfilata qualche cosa diciamo ecco ma non dirò cosa ovviamente ce lo svela mai nessuno e quindi non riusciremo a tirarti fuori nulla avete trovato difficoltà molte volte scegliere un tema e poi trasferirlo in un corteo impone porta delle difficoltà sia a livello sartoriale ma anche per esempio come Falegnameria come Carri che difficoltà avete incontrato e come le avete superate ma noi diciamo il nostro tema è un tema piuttosto terreno è molto semplice noi facciamo diciamo il vino partiamo dal vino quindi la difficoltà iniziale sicuramente è stata nel cercare di dare spettacolarità alla sfilata comunque al discorso del carro un'altra difficoltà è dovuta sicuramente dalla grande affluenza di giovani 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 diciamo giovanissimi che sono all'interno del corteo ecco cercare di sistemare tutte queste entità tra virgolette nell'economia del corteo storico ecco eppure non avete voluto rinunciare ai bambini perché assolutamente assolutamente no soprattutto dopo il paro di primavera diciamo c'è stata questa orda anomala di bambini che in verità si spera e si pensa saranno il futuro della nostra porta comunque dopo il paro di primavera c'è stata una grande affluenza anche qui a livello di lavoro di questi ragazzi ragazze anche qui in sede in guardaroba a fare delle piccole cose piccoli lavori quindi è da una parte è croce e da una parte è delizia ecco allora noi qui abbiamo delle persone che quante ore avranno speso qui dentro non lo sappiamo di sicuro tanto mi guarda male lo fa sempre però non ci arriviamo allora il lavoro fisico e più ancora che mentale forse c'è quante ore spese qui dentro tante ore tantissime tolte anche dalla mia famiglia e alla famiglia dei miei collaboratori e allora la soddisfazione poi qual è la realizzazione di fare a volte c'è il pensiero non ce la faccio forse il prossimo anno non ce la faccio più quello sempre sempre mi prende il panico alla fine ecco Canadi affrontiamo un argomento i giovani diceva Stefano ne arrivano tanti in sartoria arrivano pochi in sartoria non si avvicinano tanto perché forse il divertimento maggiore è stare sui carri stare a preparare la sfilata però a cucire pochi eppure il futuro è quello anche il futuro è questo ma io ringrazio anche i membri esterni che mi danno una mano dalle ricamatrici al gruppo di Roveto che è un bellissimo gruppo ecco perché diciamo questo i costumi vengono realizzati tutti qui ma poi insomma si lavora per gruppi per temi giusto? sì anche all'esterno si lavora abbastanza e ringrazio tutti veramente di cuore lo facciamo anche noi insomma per dire che un corteo quando nasce davvero è di lunga data nel senso che arriva da molto lontano questa era Porta San Donato l'ultima tappa la facciamo a Porta San Martino ultima porta che visitiamo ultima sede ultima sartoria ovviamente non per qualità e non per importanza ma perché poi insomma da qualche parte bisogna iniziare da qualche parte bisogna finire è quella di Porta San Martino giallorossa si vede insomma sicuramente giallorossi e rincontriamo gli anni passano gli anni rimangono assolutamente inalterati sui nostri volti però rincontriamo Martina che di questo corteo storico e di questo gruppo è responsabile o irresponsabile perché ci vuole un po' di coraggio sbaglio per fare anche questo mestiere seppur di hobby abbastanza abbastanza coraggio io non sono da sola in questo compito così pesante diciamo Eleonora Giovagnoli è responsabile con me Stefania e Pierina sono le responsabili della sartoria abbiamo Andrea e Nazareno che sono i responsabili dei carri e poi qui dentro come potete vedere abbiamo tanta gente tante mani che lavorano per rendere possibile poi quello che verrà portato su in piazza il sabato dei giochi senza di loro niente sarebbe possibile tra l'altro molto giovani sì è vero molto giovani e con molta voglia di fare prenderanno il mio posto un giorno sei giovane anche tu quindi immaginiamo no insomma allora Martina qual è il tema che avete scelto quest'anno per il corteo allora quest'anno il titolo del nostro corteo è gli arcani da gioco di corte a simbolismo popolare in uno scorcio del quindicesimo secolo quindi siamo andati a immergerci in questo mondo particolare delle carte trattando soprattutto il tema degli arcani minori che sono poi i predecessori delle nostre carte da gioco quindi coppe, spadi denari e bastoni abbiamo incentrato il nostro corteo su questi quattro semi un tema che per San Martino è sicuramente una bella sfida voi avete sempre prediletto il mestiere l'attaccamento come dire al territorio quest'anno questa scelta perché? ma noi non ci siamo distaccate dalle nostre tradizioni abbiamo continuato comunque a portare in scena mestieri e tradizioni legate a quello che è il nostro popolo e la nostra terra diciamo che quest'anno abbiamo tra virgolette voluto intraprendere una sfida con noi stessi dopo due anni di bellissimi risultati sia nel 2012 con la vittoria che l'anno scorso con un secondo posto veramente meritato abbiamo deciso di intraprendere questa sfida e di buttarci anche nel mondo delle allegorie e non solo dei mestieri e ci siamo dette vediamo come va se va bene ben venga se va male abbiamo un punto di partenza da cui migliorare difficoltà di questo tema nella sua realizzazione ne avete trovate quando si realizza un corteo storico le difficoltà ci sono sempre fino al sabato mattina ci sono dubbi atroci su su qualunque cosa poi manca sempre qualcosa vero? perché la voglia di fare bene di rimanere nella mente di chi vede il corteo è è tanta il lavoro è tanto io ho visto loro cucire da aprile in una maniera veramente da marzo precisano veramente istancabile ho visto i carristi ingegnarsi per fare cose vedo loro che sono qui lavorano fanno quello che gli viene chiesto di fare senza battere ciglio però fino all'ultimo secondo c'è sempre l'ansia di oddio avrò fatto tutto bene vedremo lo vedremo ma Martina è una come dire cattivella che pretende molto insomma la teniamo no no veramente è una brava ragazza diciamo quindi ce la teniamo allora queste sono tutte giovanissime quindi non sta brutto chiedere l'età che anni hai? quanti anni hai? 18 quasi 18 17 il priore se le sceglie tutte giovani 23 23 17 19 17 18 20 io non lo so se sono fidanzate io consiglierei una capatina nel settore qui non lo chiedo no ecco non lo chiedo però insomma tante giovani che bello siamo fortunati per questo perché sono ragazze che vengono con entusiasmo e questo ci fa piacere significa che si trovano bene non tutto riescerà perfetto perché neanche noi siamo all'altezza di prendere le cose tutte perfette però ci proviamo e stiamo bene assieme io quando le vedo sono felicissima perché la gioventù è la gioia di noi grandi grandi assolutamente allora su cosa ci stiamo concentrando in questo periodo voi da marzo che cucite quindi immaginiamo che gran parte del lavoro è stato fatto no su cosa vi siete concentrati corte oppure insomma le figure immagino allegoriche che questo corteo vi ha portato indotto certo noi abbiamo lavorato un pochino ci siamo migliorate sulla corte poi abbiamo lavorato sulle carte i simboli i simboli comprende i re le regine però vediamo cosa verrà fuori alla fine vediamo il risultato perlomeno noi siamo soddisfatte di quello che abbiamo fatto cerchiamo di fare il meglio come tutti quanti è una cosa normale però vediamo incrociamo le dita allora sentiamo un po' Paola che no per sapere ma insomma è bello questo corteo perché dice che abbiamo lavorato tutti quanti cercamo di fare il meglio qui nessuno ci svela qualcosa i segreti insomma vedremo bei re belle regine ha detto Martina quello che doveva dire noi lavoriamo e basta praticamente è una negriera in sostanza non stanno qui lavorano e basta no 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 la promuoviamo carità no ecco se lavora cercamo di fare il meglio possibile veramente guarda tutto qua bene c'è collaborazione no con chi studia la sfilata e chi la realizza logicamente se non c'è collaborazione a volte ci sono delle incomprensioni vero Martina però no fra le giovani e le grandi però penso che sia normale assolutamente normale allora chissà se il priore è soddisfatto di questo gruppo adesso due minuti lo andiamo a cercare e ve lo presentiamo allora abbiamo incontrato queste portagliole giovani meno giovani insomma tutte però con un grandissimo entusiasmo Stefano riconfermato si priore altri tre anni mi hanno dato la fiducia per altri tre anni adesso vediamo di ripagarla ovviamente se non si sa se è una sciagura o un premio esatto dipende poi dagli eventi che succederanno prossimamente ecco allora parliamo un po' di questa porta che obiettivi vi siete dati perché che obiettivo ti sei dato tu per questi nuovi tre anni sicuramente l'obiettivo primario è quello di vincere il palio perché è la cosa più ambita penso a tutti quanti e in secondo luogo sicuramente anche per premiare tutta questa gente che lavora proprio in questo settore sia questo che è collegato con diciamo nelle altre stanze che abbiamo dall'altra parte diciamo dal reparto carristi e dal reparto sfilato ovviamente vincere anche la sfilata è un premio ambitissimo ci siete andati vicino l'anno scorso siete arrivati secondi l'anno scorso siamo andati vicino nel 2012 ce l'abbiamo rivinto quindi siamo comunque titolari di due premi uno è stato fatto alla primissima edizione di tantissimi anni fa e poi ecco però uno recentissimo il che vuol dire che il vostro lavoro è comunque apprezzato sì sicuramente queste ragazze ripeto in collaborazione è un gruppo che lavora tutti in sinergia perché sono tre settori separati ma in realtà lavorano tutti in sinergia perché le Sarte lavorano per la sfilata i carristi lavorano per la sfilata per costruire una cosa che sta diventando io dico questa è una cosa anche per Gualdo che secondo me il corteo di Gualdo è diventato negli ultimi anni è cresciuto tantissimo è diventato secondo me uno più belli dell'Umbria proprio perché per il lavoro di tutte e quattro le porte e devo dar atto a queste persone che sono tutti volontari io ribadisco sempre questa cosa che all'interno delle porte io parlo ovviamente la mia ma è la stessa cosa per tutte le altre porte è solo un gruppo di volontariato che manda avanti questa festa tutti noi non si prende una lira si lavora ore e ore e ma ci si spendono i soldi si spendono ma di qui lavoro fino alle due di notte anche gente che ha anche famiglia ha anche i lavori eppure stanno qua a lavorare per noi sono un patrimonio ecco perché noi parliamo spesso di cosa sono state le porte parliamo di cosa sono adesso cosa sarà nel futuro sarà sostenibile questo anche nel futuro sia economicamente per le porte ma sia anche umanamente è vero che voi avete tanti giovani si diciamo che il ricambio ce l'abbiamo questo te lo ho dimostrato con le riprese che hai fatto prima le ragazze ce l'abbiamo i giovani ce l'abbiamo sicuramente per quanto riguarda il ricambio generazionale c'è lo stiamo creando anche perché ripeto la creazione del palio dei piccoli del palio di primavera questo è comunque stato un fattore scatenante per questo cambio diciamo in qualche modo li attiri e poi li metti dentro esatto poi rimangono dentro rimangono all'interno quindi si creano il loro gruppettino le loro piccole sfide e quindi crescono all'interno diciamo dell'ambiente della porta oggi abbiamo il centro aggregazione per quanto riguarda i ragazzi giù alla stalla e quindi vanno su loro in questa maniera crescono in questa maniera per quanto riguarda la parte economica diciamo che negli ultimi anni si sta un po' sentendo anche da parte nostra la crisi perché dubbiamente noi viviamo su piccole cose viviamo in quei tre giorni viviamo sulla festa che dura tre giorni piccole iniziative che si fanno durante l'anno qualche cena qualche ritrovo qualche cosa che ci inventiamo così ecco merchandising che vendiamo cerchiamo di autosostenerci speriamo di andare avanti di superare anche noi il momento di crisi che sta vivendo un po' tutto il paese diciamo avete messo insieme delle iniziative magari anche legate alla taverna nei tre giorni per venire incontro per esempio a insomma una contrazione dei consumi di cui risentono tutti i commercianti ne avete paura voi o in qualche modo più che paura cercate in qualche modo di pensare anche alle difficoltà che per esempio le famiglie ora hanno per venire in taverna noi sicuramente una cosa una politica che sto facendo da un po' di anni a questa parte è quella di mantenere i prezzi bassi cioè di non aumentare niente proprio per venire incontro e ovviamente cerchiamo per esempio chi ha famiglia i bambini di farli pagare un prezzo ridotto per attirarli all'interno comunque a mangiare nella taverna e sicuramente non aumentiamo i prezzi questa è una cosa che ci abbiamo che ci abbiamo partito da procedere guardate che questo è bello guardate che bello non volevano farci vedere i carri ci hanno spento la luce è il massimo sarà una spending review allora facciamo una battuta finale quindi insomma avete delle iniziative anche per venire in conto sì sicuramente mettiamo in moto delle cose per attirare la gente ripeto noi non abbiamo aumentato i prezzi proprio per rimanere coerenti da due o tre anni a questa parte diciamo per attirare la gente il più possibile a mangiare a noi e si mangia benissimo da noi fidatevi che si mangia benissimo una battuta sul palio bisognerà rivincerlo è ora giusto San Martino l'ha vinto pochi anni fa Honor del Vero però aveva fame all'epoca ce l'ha ancora questa fame? sicuramente sì l'ha vinto il mio collega Fabio che comunque sta all'interno qua con noi e sì abbiamo bisogno di rivincerlo sicuramente sì allora con la fame del palio e questa atmosfera come dire noir ma anche estremamente piacevole è romantica molto romantica ma già sarà gelosa la moglie di Stefano che salutiamo assolutamente eccola hanno più votato per non lavorare le sarte vogliamo prendersi un foto di ferie vedi 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 è tornata la luce citando la priora quindi evidentemente ha anche un potere magico di sottofondo chiudiamo da San Martino questa nostra incursione nelle sartorie dandovi appuntamento alla prossima puntata mercoledì prossimo dove questa volta andremo a vedere che cosa combinano giocolieri i somarai insomma quelli che il palio lo devono davvero vincere grazie appuntamento alla prossima puntata rocchetta per te e rocchetta per me ma tu sia Laura perché bevi sempre rocchetta? perché la mia acqua è di bellezza così mi depuro dalle scorie cattive e sono pulita dentro e bella fuori io da grande voglio diventare bella come te ma tu sei già bellissima rocchetta acqua della salute puliti dentro e belli fuori sia Laura effetto rocchetta